Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Questo è un video che come al solito qualcuno di voi mi ha richiesto tra i commenti di un mio video precedente. Cerco sempre di accontentarvi, quindi oggi parliamo del caso di Manuela Bailo. È il 2015 e siamo a Nave, più precisamente in provincia di Brescia. Nasce il 26 giugno del 1983, dunque ha 32 anni. E' una donna minuta, ha un bel sorriso e due grandi occhi verdi. Ha molti amici Manuela e tiene molto alla sua famiglia. Dopo gli studi in economia e commercio, viene assunta nel caf di Brescia della Will, in via Avantini. Sul lavoro Manuela è precisa ed è apprezzata sia dai capi che dai colleghi. E' una donna gentile, semplice, solare e proprio in ufficio fa un incontro che le stravolge la vita. Manuela incontra un uomo di nome Fabrizio Pasini. Lavora anche lui in quell'ufficio e le chiede un aiuto per compilare. La dichiarazione dei redditi. E' uno stimato sindacalista e di anni ne ha 48. Fabrizio è un ragazzo d'oro, estremamente positivo e disponibile nei confronti degli altri. Molti lo descrivono come una persona delicata, sensibile. Ergo, la violenza, c'è da sottolinearlo, non ha mai fatto parte della sua vita. Né in famiglia quando abitava con i suoi, né sul lavoro, né tanto meno con qualsiasi altro soggetto. Menchemeno le donne. Altre persone invece lo descrivono come un uomo burbero, poco delicato. Tutti gli amici di Manuela si sono chiesti cosa mai ci abbia trovato di bello in quell'uomo. Ma si sa che all'amore non si comanda. Fabrizio ha diversi hobby. E' un ex reggbista, ma soprattutto ama il soft air. Va ad allenarsi con il suo gruppo di amici in una cascina di Azzanello, nella campagna cremonese. Ma non è finita qui, perché Fabrizio ha anche una moglie e due figli. Vive a Ospitaletto, un comune in provincia di Brescia, in via San Giacomo con Ilaria, sua moglie, e i suoi due figli, Stefano, di 17 anni, e Chiara, di 15 anni. Tra Manuela e Fabrizio dunque scoppia la scintilla. E' vero, lui è sposato, ma lui dice che sta già chiedendo il divorzio. Vuole lasciare sua moglie, in quanto non si trova più bene con lei. Il matrimonio è in crisi, sono in pratica separati in casa, così dice Fabrizio. Manuela, dal canto suo, convive col suo fidanzato, Matteo Sandri. Ma lei non ha paura di affrontarlo per dirgli che i suoi sentimenti non sono più gli stessi. Così si lasciano di comune accordo, anche se continuano a vivere sotto lo stesso tetto. In quanto, per quella casa, hanno avviato un mutuo. Restano dunque amici, conducono vite separate, e a stento si incrociano in casa. Gli amici e familiari di Manuela non sanno che lei e Matteo si sono lasciati. Non sanno che lei ha iniziato una nuova relazione con Fabrizio. Perché nessuno lo sa, ma ci sono diverse ipotesi. A mio avviso, quella più credibile è quella che poi hanno formulato i suoi amici. Probabilmente Manuela attendeva che Fabrizio divorziasse dalla moglie, per poterlo presentare ufficialmente come suo fidanzato. Nonostante Fabrizio abbia intrapreso una relazione extracognugale, in casa è presente, almeno all'inizio. Sembra il marito modello. Il copione che recita puntualmente tra le mura domestiche, è quello di un uomo dedito alla moglie e ai figli. Intanto, la relazione tra Fabrizio e Manuela decolla. La donna affida alle chat e ai messaggi il confronto con Fabrizio. Cerca dunque di capire la verità, perché non è troppo sicura di ciò che gli dice. E se con sua moglie in realtà non volesse divorziare? Fabrizio scrive spesso a Manuela lo stesso messaggio, e con stesso messaggio intendo proprio lo stesso identico messaggio, copia e incolla. Ve lo leggo immediatamente. Manuela a questo punto si mette l'anima in pace e inizia a credere davvero a ciò che le dice Fabrizio, che però la sta ricoprendo di menzogne. Riempie di menzogne sia Manuela che sua moglie, Ilaria. Dopo un po', Manuela inizia a lamentarsi con Fabrizio, perché lui evita di farsi vedere in giro, in pubblico, con lei. La nasconde e quindi anche andare insieme ad un concerto diventa un problema. Quando escono e passeggiano in giro lui non le tiene mai la mano, né tantomeno fa cose carine nei suoi confronti. Quando sono nel privato un uomo affettuoso, le famiglie promesse, ma appena escono di casa Fabrizio cambia, diventa distante e distaccato. Questa situazione a Manuela va sempre più stretta. Dunque ecco che iniziano i litigi. Queste litigate si concentrano di più nel fine settimana, in quanto Manuela inizia a dubitare della sincerità di Fabrizio e glielo dice anche. Tu mi stai riempiendo di bugie, io sono stanca, esclama Manuela, l'ennesima volta in cui Fabrizio le dà buca. Fabrizio però la rassicura sempre e le dice che presto si separerà da sua moglie, così finalmente potranno andare a vivere insieme. La verità è che questo uomo illude Manuela, non giungendo mai ad operare una vera svolta. La scusa che ripete in continuazione Fabrizio è sempre la solita. La separazione avrebbe traumatizzato i suoi figli. Inoltre per il momento quella non è una spesa che sarebbe riuscito a sostenere. Fabrizio quindi non si limita a manipolare Manuela raccontandole delle bugie, ma come già vi ho accennato spesso e volentieri le dà buca. Le scuse anche in questo caso sono un po' le solite. Una volta deve andare al cinema con la sua famiglia, un'altra volta deve accompagnare i suoi figli da qualche parte. Fabrizio dunque temporeggia e nel frattempo si crea una vita parallela a quella coniugale. Manuela però è sempre più stanca, non ce la fa più a sostenere una situazione simile. Vuole avere un minimo di stabilità, cosa che in me non avrà mai. Manuela è convinta che lei e Fabrizio avrebbero avuto un futuro assieme, ma Fabrizio è della stessa idea? I dubbi per Manuela sono tanti e più passa il tempo, più questa domanda continua ad assillarla sempre di più. Fabrizio con lei un futuro lo vuole oppure no? È così che passano due anni. La relazione tra Manuela e Fabrizio è tutto fuorché stabile. Le liti sono continue anche perché Manuela oramai inizia a nutrire seri dubbi sulla sincerità di Fabrizio. A giugno del 2017 Ilaria, la moglie di Fabrizio, scopre che suo marito si è innamorato di un'altra donna. Però non sa proprio chi sia questa donna. Ilaria affronta Fabrizio immediatamente e ben presto i due iniziano a litigare. È una litigata molto forte questa. Ilaria e Fabrizio non sono soliti prendersi a parole. Anzi, tentano di insegnare ai loro figli una buona educazione partendo da loro stessi e dai loro comportamenti. Quindi tentano di dare il buon esempio. Ma dopo questa lite furibonda, Fabrizio decide di spostarsi a casa di sua madre, Lydia, che vive a Ospitaletto, in Via Allende. Rimane a casa di sua madre una decina di giorni. Decide successivamente di tornare a casa perché la verità è che Fabrizio non vuole perdere né sua moglie né i suoi figli. Contemporaneamente però non vuole interrompere neanche la relazione con Manuela. In pratica sta col piede in due scarpe e ci sta per parecchio tempo. Ormai la relazione con Manuela prosegue da due anni, che non sono di certo pochi. È a questo punto che Fabrizio dice chiaramente alla sua amante di essersi trasferito da sua madre. Basta, con sua moglie la situazione sta diventando invivibile. Peccato che si dimentichi di dirle che, dopo appena dieci giorni, si è tornato a casa dalla sua famiglia. A quanto ne sa Manuela, ora Fabrizio vive stabilmente a casa di sua madre, a Ospitaletto. La relazione tra i due dunque prosegue ed è così che passa un altro anno. E, ahimè, arriva ben presto il punto di non ritorno. Manuela non ce la fa più, vorrebbe lasciare Fabrizio, ma lo ama tantissimo. Ormai l'ha capito, Fabrizio le racconta un sacco di fandonie. E lei non riesce più ad avere fiducia in lui. In tre anni di relazione non hanno fatto nulla insieme, se non uscire qualche volta a bere qualcosa. Certo erano soliti anche vedersi in compagnia, non mancano mai agli aperitivi organizzati dai colleghi. Ma in questi contesti i due chiaramente fingono di essere colleghi. E non si lasciano certo andare a defusioni. A momenti neanche si guardano per paura di essere scoperti. E Manuela questa situazione non riesce più a sopportarla. Non vuole più essere la seconda scelta, non vuole più fare la ruota di scorta. La donna dunque dà un ultimatum a Fabrizio, gli chiede di fare una scelta definitiva, o lei o sua moglie. Fabrizio tenta di rassicurarla come al solito, le dice che presto farà le pratiche del divorzio e sistemerà tutto lui. Ma a questo punto Manuela non gli crede più. D'altronde sono tre anni che Fabrizio le ripete sempre la stessa cosa. Così un giorno la donna pretende di avere da Fabrizio il numero di sua moglie. Sono i primi giorni di luglio del 2018, quando Manuela prende coraggio e prova a chiamare la moglie di Fabrizio. Ilaria è intenzionata a raccontarle tutto, ma quel numero non risulta attivo. Manuela dunque minaccia Fabrizio di chiudere per sempre la relazione. E Fabrizio dopo tre anni di sotterfugi non riesce più a contenere le pretese più che doverose di Manuela. Dovete sapere che Manuela in casa sua ha installato una videocamera di sorveglianza, grazie al suo ex fidanzato che è appassionato di tecnologia. La videocamera, rimasta accesa, registra una litigata tra Fabrizio ed Emanuela. Dopo tre anni le dinamiche si ripetono in modo identico. Fabrizio torna ad Emanuela e ogni volta le fa promesse che non può mantenere. Promette di passare con lei il weekend, rimanendoli a dormire, cosa che non fa mai. Promette di chiudere la relazione con sua moglie, cosa che non fa mai. Emanuela intanto è confusa, è spaesata, ma è anche molto molto triste. Perché è innamorata di Fabrizio, lo è da sempre, altrimenti avrebbe chiuso quella storia molto ma molto tempo prima. La verità è che Emanuela spera sempre in un cambiamento. Nutre quella piccola speranza con le promesse mai mantenute di Fabrizio. Ma soprattutto Emanuela vuole credere a Fabrizio. Come già vi ho detto lo ama e non riesce a staccarsi del tutto da lui. Questo uomo ha costruito due vite su due binari paralleli e il suo timore è chiaro. Non vuole che questi due binari si incrocino mai. Dunque a questo punto decide che è necessario fare qualcosa per impedire che ciò avvenga. Fabrizio avrebbe potuto confessare la verità a sua moglie o a Emanuela. Non sarebbe stato né il primo uomo né l'ultimo. E invece Fabrizio decide di eliminare uno dei due problemi. Siamo nel luglio del 2018. La madre di Fabrizio è partita per la Sardegna con i nipoti. Quindi con i figli di Fabrizio e Ilaria. Dopo qualche giorno lui e sua moglie li raggiungerà per trascorrere le vacanze estive tutti insieme. La sera del 27 luglio Manuela e Fabrizio trascorrono la serata assieme. Prima fanno un aperitivo con degli amici e poi vanno a cena. Loro due da soli in un ristorante sul lago. Dopo la cena Manuela chiaramente vorrebbe passare la notte con Fabrizio. Ma lui le dice che non può proprio rimanere. In quanto il giorno dopo deve svegliarsi presto per accompagnare sua madre in aeroporto. In quanto deve partire per la Sardegna. Sappiamo benissimo che questa è un'ennesima balla. Perché in realtà la madre di Fabrizio è già in Sardegna con i nipoti. Manuela però questo non lo sa. La mattina dopo però le viene un dubbio. Quindi decide di fare una ricerca al computer. E che cosa cerca Manuela? Manuela cerca i voli in partenza per Alghero. E scopre che nell'orario indicato da Fabrizio non ci sono voli. L'ha detto un'altra balla. Manuela è molto amareggiata e molto triste. Ma è anche disperata. Infatti prende il telefono e scrive a Fabrizio. Non c'è nessun volo. Non riesco a smettere di piangere. Non vuoi più venire a vivere con me? È chiaro che questo sia il messaggio di una donna follemente innamorata. Fabrizio dal canto suo non si perde d'animo. E dà appuntamento a Manuela per un'ennesima serata insieme. Arriviamo quindi a sabato 28 luglio 2018. La donna sta per uscire di casa col fine di raggiungere Fabrizio. Il quale le ha promesso di trascorrere tutto il fine settimana insieme. La telecamera di videosorviglianza riprende Manuela che si muove in salotto. Prepara una borsa per passare la notte fuori casa e poi esce. Contemporaneamente la moglie di Fabrizio, Ilaria, è al ristorante. Perché Fabrizio aveva organizzato una cena con dei suoi amici con cui faceva rugby. Peccato che Fabrizio non ci sia. Mentre la cena è in corso, Ilaria prova più volte a contattare il marito. E quest'ultimo inventa un'ennesima palla. Le dice che si trova a casa di un suo amico che si è sentito poco bene. Lascia dunque sua moglie a cena con i suoi amici promettendole di aggiornarla. Ma accade qualcosa di imprevisto. Fabrizio e Manuela si addormentano a casa della mamma di Fabrizio, a ospitaletto. L'uomo si sveglia nel cuore della notte e si rende conto che sua moglie ha provato a chiamarlo una marea di volte. Così che fa? Beh, finge di essere caduto, sveglia Manuela e le dice che ha bisogno di andare al pronto soccorso perché ha picchiato il costato e gli fa malissimo. Manuela dunque lo accompagna al pronto soccorso dove Fabrizio viene visitato per una riferita caduta in casa che gli ha provocato un trauma al costato. Tutto questo è documentato sia dalle analisi dei tabulati che dalla successiva acquisizione delle immagini di sorveglianza. Prima quelle comunali, poi quelle di alcune abitazioni private a ospitaletto. Mentre Fabrizio si trova al pronto soccorso ovviamente riceve diverse telefonate da sua moglie. Che oramai è a casa e ovviamente vuole sapere come stia andando la situazione. Il suo amico si è ripreso. Parallelamente Manuela, che è rimasta in macchina ad attenderlo, prova a mandargli più messaggi per chiedergli come stia, a che punto sia, come va quel costato. Fabrizio a sua moglie dice che è stato tutta la sera con un suo amico. Ma mentre portavano fuori il cane Fabrizio è inciampato sul guinzaglio, è caduto e si è fatto male. Di conseguenza è andato al pronto soccorso. Manuela e Ilaria sono in egual modo preoccupate per Fabrizio. Entrambi ingannate dalle bugie di un uomo che in realtà pensa solo a se stesso. Alle 3.18 di mattina Fabrizio viene dimesso dall'ospedale. Quando rientra in casa con Manuela, viene ripreso dalle telecamere di sorveglianza della villa di fronte a quella di sua madre. Mentre i due stanno tornando a casa, scoppia una lite. Fabrizio nella sua dichiarazione agli atti del processo dice questo. Esco dal pronto soccorso e faccio la strada per portare Manuela alla macchina. Ad un certo punto stiamo ancora per l'ennesima volta litigando. Perché Manuela ha notato che ero al telefono e messaggiavo anche dal pronto soccorso. Aveva visto che ero online su WhatsApp. I due dunque litigano durante tutto il viaggio in macchina. E la lite prosegue anche in casa della madre di Fabrizio, a ospitaletto. I due però, c'è da sottolinearlo, non litigano solo perché Fabrizio era online su WhatsApp. Ma anche perché l'uomo dice a Manuela che dopo qualche giorno sarebbe partito per andare in Sardegna con la sua famiglia. Manuela a questo punto scoppia. Fabrizio le aveva promesso di passare le vacanze estive con lei. Ma ogni volta le sue promesse si rivelano bugie. Non ci tiene a lei. È questa la amara verità. Manuela non ce la fa più. Dunque inizia ad urlare in faccia a Fabrizio. Dopo tre anni Manuela esplode e più Fabrizio le chiede di non urlare, più Manuela alza la voce. È davvero fuori di sé dalla rabbia. Mentre discutono, pare che Fabrizio sia nel pallone. Entra nel garage della casa di sua madre e cammina in tondo. Poi va verso una stanzetta presente nel garage della casa. Intanto il suo telefono continua a squillare. Sua moglie vuole sapere come stia, se è uscito dall'ospedale. Nel frattempo Manuela continua ad urlargli dietro. È a questo punto che Fabrizio con un corpo contundente colpisce Manuela la testa. La fa cadere a terra, la stordisce e poi le taglia alla gola con un coltello. Dopo aver ucciso Manuela, Fabrizio ne occulta il corpo usando un sacco della spazzatura. Prende il telefono di Manuela e lascia il suo corpo a casa di sua madre a ospitaletto. Invia allende. Ormai sono le sei del mattino quando Fabrizio esce di casa. Dunque il delitto si è consumato tra le quattro del mattino e le sei del mattino. Quando rientra a casa Fabrizio racconta alla moglie di aver passato la notte con un suo amico affetto da una forte depressione e poi di essere andato al pronto soccorso perché è inciampato sul guinzaglio del cane di questo suo amico. La moglie, Ilaria, gli crede. Il giorno successivo al delitto di Manuela, domenica 30 luglio, Fabrizio trascorre tutta la sua giornata a casa e per allontanare il sospetto da sé, col cellulare di Manuela manda dei messaggi a dei suoi colleghi, alle sue amiche e ai suoi genitori. Agli colleghi di Manuela scrive Non verrò lunedì a lavorare perché ho la bronchite. Alle amiche di Manuela scrive Scusate se non mi faccio sentire in questo periodo ma mi sono ammalata. Ho la bronchite. Alla madre di Manuela Fabrizio scrive Ciao, scusami mamma ma domani non verrò da te a pranzo perché ho preso la bronchite e sto male. Inizia così per Fabrizio la sua opera di depistaggio. Tutti però leggendo quei messaggi notano che c'è qualcosa che non va. Manuela non scrive così. Di solito scrive messaggi ben più lunghi, è solita anche mettere qualche faccina, qualche cuoricino. Quei messaggi però sono diversi, risultano freddi, distaccati. E Manuela non era una tipa né fredda né distaccata, anzi tutto l'opposto. Quando Manuela stava male era solita prendere il telefono per chiamare le sue amiche, anche solo per passare il tempo. Certo, ha una bronchite, quindi magari sta troppo male per rispondere al telefono o per parlare? Probabile. Però quei messaggi sembra che non sia stata Manuela a scriverli. Poco dopo il telefono di Manuela viene spento. Dunque una cara amica della donna, anzi la migliore amica della donna, di nome Francesca, contatta Fabrizio, si presenta e dice che è la migliore amica di Manuela. Francesca dice chiaramente che non si vuole mettere in mezzo tra lui e Manuela, la loro relazione è a far loro. Ma non riesce più a contattare la sua amica, non le risponde, quindi è preoccupata. Fabrizio risponde a Francesca che effettivamente è preoccupato anche lui. L'ultima volta che ha visto Manuela era venerdì ad un aperitivo, poi ha smesso di rispondere anche a lui. A questo punto Fabrizio per reggere l'alibi scrive quotidianamente a Francesca per sapere se ci siano novità. Novità che ahimè non ci sono mai perché l'unico a sapere come siano andate realmente le cose è Fabrizio. Ad un certo punto Cristina, un'altra amica di Manuela, parla con Francesca. E a quel punto parlando si convincono entrambe che ci sia qualcosa che non vada. Intanto il giorno dopo l'omicidio di Manuela Fabrizio ostenta normalità. Si scatta alcuni selfie con la moglie che manda i suoi figli in Sardegna. Il 30 luglio Fabrizio Pazzini dopo aver indossato la mimetica da soft air prende il corpo senza vita di Manuela, lo carica nel bagagliaio della sua macchina e si reca nella cascina di Azzanello, una località in aperta campagna dove in passato era andato spesso a giocare con degli amici a soft air. Qui Fabrizio si libera del corpo di Manuela gettandolo in una fossa di liquami. Infine spegne il cellulare di Manuela e lo butta insieme al suo corpo. Nei giorni successivi all'omicidio Fabrizio torna nella cascina in cui ha occultato il cadavere di Manuela. Il motivo di questo suo ritorno non è chiaro ma i carabinieri hanno un'ipotesi. Forse Fabrizio è tornato per controllare che tutto fosse a posto prima della sua partenza per la Sardegna. La sera di mercoledì 1 agosto i genitori di Manuela denunciano la scomparsa della figlia e questa volta fortunatamente la pista dell'allontanamento volontario viene immediatamente esclusa. Manuela era una donna abitudinaria. Sia gli amici che i parenti sottolineano che non si sarebbe mai e poi mai allontanata senza avvisare nessuno. Quindi partono immediatamente le ricerche nel modo più massiccio possibile. Viene attivata un'indagine di scomparsa pensando già ad un omicidio però. I carabinieri decidono di convocare in centrale gli amici di Manuela e in effetti tutti dicono la stessa cosa. La Manu prima di sparire mi ha scritto un messaggio ma non sembra scritto da lei. Mostrano dunque i vari messaggi alle forze dell'ordine sottolineando quei piccoli particolari che proprio non tornano. Il 2 agosto dopo aver raccolto informazioni dai familiari e dagli amici di Manuela i carabinieri convocano in centrale anche Fabrizio proprio alla soglia della sua partenza per la Sardegna. Fabrizio ammette che aveva una relazione con Manuela ma sostiene che siano stati insieme per circa un anno. Quindi hanno concluso la relazione l'anno precedente stando a ciò che dice Fabrizio. L'ultima volta che ha visto Manuela era il 27 luglio, un venerdì, per un aperitivo. Poi non l'ha più né sentita né vista. Le affermazioni di Fabrizio vengono smentite alla velocità della luce dall'ex fidanzato di Manuela in quanto se ben ricordati in casa aveva installato delle telecamere di videosorveglianza. Ebbene quei video dimostrano che Fabrizio aveva fatto visita a Manuela in quella casa già in epoca successiva quando lui aveva detto che non si vedevano più. E' così che negli inquirenti nasce un sospetto. Intanto Fabrizio parte tranquillo per la Sardegna, ignaro del fatto che l'indagine nei suoi confronti non solo è già bella avviata ma prosegue. In quelle settimane di caldo torrido in cui a Brescia cercano disperatamente Manuela giornali e televisioni si occupano della sua scomparsa Fabrizio ad Alghero in Sardegna spera di farla franca. E' chiaro che per una personalità egotica come la sua l'evidenza va sempre negata, sempre e soprattutto a se stessi. Quindi mentre le indagini fanno il loro corso Fabrizio inizia ad essere tenuto d'occhio dai carabinieri che in accordo con i carabinieri di Brescia non lo mollano mai neanche un secondo. Per 20 giorni monitorano ogni suo movimento. In quelle settimane un giornalista di Brescia, Andrea Cittadini, riesce ad ottenere il numero di telefono di Fabrizio. Il giornalista dunque lo chiama e Fabrizio risponde senza alcun problema. Andrea si presenta immediatamente, dice a Fabrizio che è un giornalista e gli spiega la situazione. Fabrizio quindi inizia a raccontare la sua versione dei fatti ad Andrea. L'uomo infatti spiega che la relazione con Manuela era finita da tempo. Non c'era più nulla tra loro, erano rimasti amici. Andrea gli chiede se per caso è al corrente di qualche altra relazione di Manuela. Ma Fabrizio nega. Infine Andrea gli chiede direttamente, ma sei sicuro che non sei stato tu? Non l'hai uccisa tu, me lo assicuri? Fabrizio risponde con tutta la calma nel mondo. No, no, ma assolutamente. Non avrei avuto alcun motivo per ucciderla. Non sono stato io. La telefonata così volge al termine. È chiaro che Fabrizio si è intercettato, così come sua moglie, sia ambientalmente che telefonicamente. Dunque questa chiamata finisce agli atti e per gli inquirenti rappresenta l'ennesima conferma delle tante bugie che ha detto Fabrizio. Ilaria, la moglie di Fabrizio, viene avvisata da amici e parenti di Brescia dell'intervista fatta dal marito con Andrea Cittadini. La donna è sempre più confusa, chiede spiegazioni a Fabrizio, che le dice semplicemente che è successo qualcosa ad una sua collega. È sparita, non si trova. Lui però non sa esattamente cosa sia successo, l'hanno chiamato e quindi ha risposto alle domande. Ilaria a questo punto inizia a dubitare, incalza sempre di più Fabrizio. La vacanza sta per volgere al termine, mancano 5-6 giorni e la moglie di Fabrizio inizia a tartassarlo, a fargli delle domande. Anche perché ricorda benissimo quando, quel sabato 28 luglio, suo marito è sparito per 12 ore, dando le buca ad una cena organizzata da lui con gli amici del rugby. Ricorda che non gli rispondeva al telefono, ricorda anche cosa le ha raccontato quando è tornato a casa alle 6 del mattino. Ora però questa storia Ilaria sembra sempre meno realistica ogni minuto che passa. Possibile che Fabrizio sia stato tutta la notte con un suo amico, per poi inciampare sul guinzaglio del suo cane, passando dunque la notte al pronto soccorso? Il 20 agosto Fabrizio torna dalle vacanze, rientra quindi a casa sua, in via San Giacomo, a ospitaletto. Durante la sera di quello stesso giorno, le autorità suonano il suo campanello, dicendogli che è in stato di fermo per omicidio. Ilaria a questo punto capisce tutto, o quasi. Le menzogne che le ha raccontato Fabrizio tornano tutte a galla. Al momento del fermo Fabrizio reagisce con freddezza. Ilaria, sua moglie, invece giustamente chiede continuamente spiegazioni, soprattutto al marito, che però non le risponde. Fabrizio racconta un bel po' di frottole, o almeno ci prova. I carabinieri gli fanno più contestazione fino a quando, alla fine, Fabrizio confessa. Dopo la nottata in caserma, l'uomo porta i carabinieri e il pubblico ministero, davanti alla cascina dove verrà recuperato il corpo di Manuela. Fabrizio appare distaccato come se la cosa non lo riguardi. Ma, nei suoi occhi, è chiaro che ci sia rassegnazione. Probabilmente si è reso conto della gravità delle sue azioni e si è rassegnata quello che sarà il suo destino processuale. O forse no? La domanda mi viene naturale, perché durante i vari interrogatori a cui viene sottoposto, Fabrizio mantiene sempre la stessa versione secondo cui Manuela sarebbe caduta dalle scale in seguita ad una spinta involontaria. L'autopsia, però, stabilisce che a Manuela è stata tagliata la giugolare con un'arma bianca. Da quando viene arrestato, Fabrizio Pasini non tentenna. Persevera, come sempre, nelle sue spiegazioni illogiche, a cui tutti intorno a lui, fino a quel momento, erano abituati a credere. E lo fa fino al processo in cui si difende sostenendo che quel taglio sul collo sarebbe stato provocato non da un coltello, ma accidentalmente durante il trasporto del corpo esanime fino al campo di Azzanello. Un abile manipolatore consumato mentitore. Non solo negli accadimenti della sua vita familiare e sentimentale, ma anche nei momenti immediatamente successivi al tragico epilogo del suo rapporto con Manuela Bailo. Così descrivono Fabrizio Pasini, i giudici della Corte di Appello di Brescia. Quando, a novembre 2020, lo condannano a 16 anni di carcere per aver sgozzato Manuela. 16 anni per l'omicidio di Manuela, e non 30. Come aveva chiesto nei due gradi di giudizio il magistrato Francesco Carlo Milanesi, che a Fabrizio Pasini ha contestato l'aggravante della premeditazione. Ma ora che la Procura Generale non farà ricorso in Cassazione, resta a nero su bianco una sola interpretazione dei fatti. Quella secondo cui Fabrizio Pasini non ha studiato con cura il delitto, ma piuttosto lo ha compiuto sulla scia dell'impeto. E' il tentativo di uscire dal vicolo cieco in cui si era infilato. I giudici della Corte d'Appello scrivono ancora Fabrizio, quindi, ha confessato, ma non del tutto. Ha continuato a sostenere che quello, in realtà, fosse un incidente. Neanche durante il processo riesce ad essere sincero e ad ammettere le sue colpe. In tutta questa storia Manuela non si è mai e poi mai considerata l'amante. Manuela era una donna che si stava vivendo una storia d'amore sicuramente travagliata. La cosa che più mi dispiace in questo caso è che la vittima non è solo Manuela. Lei certamente ha perso la vita, ed è una tragedia. Ma la verità è che Fabrizio ha portato via Manuela la sua famiglia, che la amava tanto. Ha condannato i suoi figli, adolescenti all'epoca dei fatti, a vivere questa situazione. Cosa può pensare un figlio nel momento in cui scopre che suo papà ha commesso un delitto? Non voglio neanche immaginarlo, ma non solo. Fabrizio ha condannato anche sua madre a vivere in una casa in cui lui ha commesso un omicidio. Fabrizio ha vissuto gli ultimi tre anni della sua vita con il piede in due scarpe, prendendo in giro sia Manuela che sua moglie, Ilaria. Intanto i vicini di Fabrizio si fanno sentire. Salvatore Sciocca dice Io lo conosco bene. Abito qui da quando hanno costruito queste case, nel 1996. Fabrizio e la moglie si sono trasferiti qui quando si sono sposati nel 1998. Poi sono arrivati i figli. Una famiglia normale, tranquilla, ma si sa, la pazzia. Viaggia su un filo molto sottile. Cinzia Braida, che abita di fronte a Fabrizio, dice sconsolata. Si pensa sempre che certe cose accadano lontano da noi. E invece quando le persone coinvolte sono i tuoi vicini di casa, ti crolla inevitabilmente il mondo addosso. Poi c'è Giacomo Amedei a dividere il suo giardino da quello della casa di Fabrizio. C'è solo una recinzione. Anche lui a mette sconvolto accanto a sua moglie. Non sapevamo niente. Abbiamo visto stamattina che era tutto chiuso e sulla porta, in casa c'era il cartello del sequestro. Non può essere vero. Lui e la moglie avevano cenato spesso da noi, in quanto ci eravamo sposati lo stesso anno. Ci frequentavamo. Abbiamo anche fatto qualche gita insieme. Insomma, quella di Fabrizio era una famiglia rispettata. Perché dopo l'atto terribile commesso da quell'uomo, nulla può tornare più come prima. Con i suoi profondi ed evidenti tratti narcisistici, Fabrizio Pasini fa il burattinaio delle vite altrui. Che lega sé attraverso il doppio filo della dipendenza affettiva e della menzogna. In questa tragica vicenda, Fabrizio Pasini rivela l'agire subdolo di un vampiro affettivo. Ma che intendo dire? Fabrizio Pasini si nutre del bisogno che Emanuela aveva di amare incondizionatamente. E gode dei vantaggi che questo gli assicura. Questo è un flusso a senso unico. Il vampiro affettivo si percepisce distortamente come vittima degli eventi. Si sente in diritto di mentire per avere la sua dose di attenzioni che rimpolpano il suo ego. Non prova alcuna empatia per le sofferenze che provoca l'amante. E' nota solo quando ormai Emanuela, con tutte le sue pretese, stava diventando un ostacolo difficile da manipolare. Il vampirismo affettivo è ritenuto in psicologia tra i fenomeni di relazione disfunzionale più diffusi. Quando il mostro affonda i suoi denti nel cuore e nella mente della sua vittima, ne prosciuga ogni energia. Riuscendo giorno dopo giorno a ribaltare la percezione della realtà. Finché non instilla le sue convinzioni e le rende indiscutibili. E' il principio di coerenza interna che ne regola la sopravvivenza. Il bugiardo patologico ha bisogno di essere il primo a credere nelle proprie invenzioni. E se la preda tenta di rinsavire, il vampiro l'aria fossa. Attraverso un meccanismo molto perverso di senso di colpa, umiliazione e codipendenza. La vittima a questo punto non si rende conto che ha bisogno di essere tale. E per questo non può più fare a meno del suo parassite emotivo. Non c'è mai un epilogo sereno in queste dinamiche affettive. Possono riguardare tanto la vita di coppia, quanto le relazioni familiari e amicali. Finché, come nella storia di Fabrizio e Emanuela, il filo si spezza nel peggiore dei modi. Detto questo ragazzi, ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere se conoscevate questo caso. Scrivetemi quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo, io vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Insomma, prendetevi cura di voi. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Ciao ragazze, ciao ragazzi.